Buongiorno a tutti gli amici di Pavia Play dalla vostra Gaia Sean in diretta da Roma. Scusatemi gli occhiali ma appunto il sole in faccia. Volevo mostrarvi una idea molto carina che è stata quella di realizzare l'albero delle identità. Un progetto di art cancelling che è proprio scritto così il progetto formativo che utilizza l'arte come metafora di trasformazione sociale. Vedete è un mosaico che si trova qui a Piazza Vittorio quindi vicinissimo alla stazione di Roma Termini dove sono state messe tante foglie diciamo così direi che sono di ceramica dove ci sono oltre ai nomi degli incoraggiamenti e quindi c'è scritto pazienza, tranquillità, determinazione piuttosto che coraggio e allora speriamo di averlo questo coraggio di superare questa fase così delicata tutti quanti un saluto da Roma Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti